per compenetrare io essere intelligente e ragionante chi sono a chi o a che cosa è dovuta la mia nascita su questa dura e pesante terra la mia vita vissuta con gioie e dolori difficoltà a cosa sarà servita quando sopravverrà la mia morte la morte stessa che significato ha sarà la fine di tutto oppure soltanto una trasformazione se con la morte tutto finisce a che scopo devo la sofferenza e la fatica commento per rispondere a tutte queste domande e per compenetrare tutti questi misteri è necessario che tu faccia posto nel tuo pensiero alla verità della legge ed evoluzione che ha presieduto presiede e presiederà alla vita perfetta e all'ordine della meravigliosa realtà del cosmo e della reincarnazione della coscienza che è la base della vita e dell'evoluzione umana in questo modo riuscirai ad accettare con più serenità gli ostacoli i dolori e le tribolazioni che la vita pone lungo il tuo cammino e a capire che nulla è dovuto al caso ma piuttosto che tutti gli effetti provengono da una causa